A Nierneau ripercorre in una sorta di riepilogativa e astiosa rievocazione il percorso che dall'infanzia l'ha portata a diventare una donna gelata, una madre di famiglia cristallizzata nel ruolo che le è stato imposto. L'atto di rievocazione diventa quasi un libero flusso della memoria, un affastellamento di piccoli momenti, sensazioni, riflessioni espresse in prima persona. Frasi brevi, quasi giusto apposte, l'ampio ricorso al discorso in diretto libero creano una polifonia di punti di vista che, accanto alla voce narrante, ricostruiscono il contesto sociale in cui poco alla volta la protagonista si incunia, fino a rimanere incastrata in un ruolo che mai avrebbe immaginato. Scrive a Nierneau, ho quattro anni, è lui che mi insegna a infilarmi il cappotto tenendo le maniche del maglione strette nel pugno per evitare che mi si arrotolino fino alle spalle. Sono tutte immagini di dolcezza e premura, non ne so nulla di capifamiglia distaccati e solenni, la cui parola è legge, irascibili tiranni domestici, eroi di guerra o del lavoro. Io sono la figlia di quell'uomo là. Il modello familiare che la protagonista recepisce durante l'infanzia è anomalo. Un padre poco virile è una madre per nulla femminile, né virilità né femminilità, scrive a Nierneau. Queste infatti sono parole che imparerò in seguito e resteranno solo quello, parole, perché ancora adesso non so bene cosa stiano ad indicare. Nonostante abbiano provato a convincermi dell'enorme differenza che c'è tra avere e non avere le palle. E io a ridere, a ripensare a quel modello così anormale con cui sono cresciuta, senza rispetto per i voli tradizionali. Il proseguo della storia, dalle prime esperienze adolescenziali fino alla maternità, sono le tappe di un apprendistato, come lo definisce la scrittrice. Cioè una graduale scoperta e conseguente adeguamento a quelle differenze tra uomo e donna che da bambina non aveva potuto nemmeno immaginare. Alla donna si chiede il rispetto per la religione, la limitazione della libertà sessuale, il farsi carico delle responsabilità domestiche, sostituire pian piano le proprie ambizioni con le aspettative sociali che vogliono una brava moglie e una brava madre di famiglia. Tutto il contrario di quello che si chiede agli uomini. Lo studio di Sartre, Camus o la lettura del secondo sesso di Simone de Beauvoir non sono una garanzia di fuga dal modello sociale piccolo-borghese. Aver letto Marchuse e dell'insignificanza degli oggetti materiali non impedisce di cadere nella frenesia di arregare al meglio le stanze di casa, come tutte le famiglie della buona borghesia. Il modello sociale dominante è ben più pervasivo e coercitivo della forza emancipatrice della cultura. Senza contare che in ogni donna agisce anche un'altra forza, primitiva, quasi innata e preidiologica, cioè quella forza che ti porta a ricercare amore, tenerezza, una fuga dalla solitudine, che ha come scotto da pagare, purtroppo, l'accettazione di una dinamica relazionale in cui quasi sempre la donna, alla ricerca di affetto sincero, si trova incastrata in un ingranaggio di subordinazione. Scrive Ernault. La pentola a pressione. Regalo di nozze. Utilissimo, vedrete. Borbotta sul fuoco. Uniti. Simili. Il trillo avuto del timer da cucina. Altro regalo. La somiglianza finisce qui. Uno dei due si alza. Spegne la fiamma sotto la pentola. Attende che la valvola impazzita si calmi. Solleva il coperchio. Filtra il brodo e torna ai propri libri, cercando di riprendere il filo della lettura. Io. Eccola cominciata la differenza. Arnie Ernault disegna una dinamica sottile di autosottomissione, che si ripara nei gesti semplici, così banali come alzarsi e spegnere una fiamma. Questi gesti appaiono insignificanti, proprio perché il modello sociale ne ha naturalizzato la femminizzazione. È normale, secondo quella società che sia la donna ad occuparsi di certe cose, e Ernie si sente quasi obbligata ad alzarsi, senza che nemmeno il marito glielo chieda, esplicitamente. È in questo sentimento scontaneo del dovere femminile che si misura la capacità subordinante della coercizione sociale, in cui il matrimonio non è l'approdo naturale di un amore completo, ma il compimento della metamorfosi da bimba piena di vita a donna gelata. L'acquisizione del cognome maschile diventa simbolo di una condizione di autoannullamento, di sparizione del sé originario, in favore di un sé familiare, in cui l'immagine dell'uomo piano piano si sovrappone alla donna, fino ad annullarne qualsiasi volontà. Scrive a Nirno, il mio cognome, quello che ho imparato a scrivere da piccola, lentamente, forse è la prima parola che i miei genitori mi hanno obbligato a scrivere, senza errori, quello che mi rendeva me stessa, ovunque fossi, che rimbombava durante una ramanzina a scuola, sfavillante sulla pagella, sulle lettere delle persone che amavo, di corpo e svanito. Quando sento l'altro, più sordo, breve, ci metto sempre qualche secondo a riconoscermi. L'apprendistato è dunque compiuto. Come direbbe Pierre Bourdieu, l'avitus sociale ha fatto il suo sporco lavoro. Ora la protagonista, a Nirno, ha finalmente chiara la differenza tra uomo e donna nella società borghese della Francia degli anni 60.